Questa meditazione può essere praticata da seduti, camminando oppure sdraiati al letto prima di dormire. Praticate ogni esercizio per almeno dieci ispirazioni e dieci ispirazioni. Inspirando so che sto ispirando. Espirando 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 il mio respiro si fa più lento Il mio respiro si fa più lento Consapevole del mio corpo, inspiro Rilassando il corpo, espiro Rilassando il corpo, espiro Rilassando il corpo, espiro Rilassando il mio corpo, inspiro Prendendomi cura del mio corpo, espiro Rilassando il 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 mio corpo, espiro Sentendomi felice, espiro. Sentendomi felice, espiro. Sentendomi felice, espiro. Dimorando nel momento presente, inspiro. Godendo del momento presente, espiro. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Consapevole della stabilità della mia postura, inspiro. Provando il piacere della stabilità, espiro. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.